Il fatto che il coronavirus sia stato isolato è un'ottima notizia, questo dimostra che il nostro sistema sanitario è fatto di professionisti straordinari, alcuni dei quali operano in Liguria, tra le regioni meglio attrezzate delle paese per far fronte a questa emergenza. Inoltre, ad isolare il virus è stato un'equipe in gran parte al femminile, orgoglio della ricerca italiana nel mondo. Così il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, che oggi ha fatto il punto sul coronavirus. I tecnici della sanità e della protezione civile hanno fatto il punto della situazione con il commissario per l'emergenza Angelo Borelli, capo della protezione civile. Ad oggi i rischi in Liguria sono potenziali, non si registrano casi sospetti o conclamati di contagio. Se dovessero verificarsi, siamo in grado di intervenire in tutta sicurezza con tempestività ed efficacia, grazie ai professionisti tra i migliori del paese e alla rete organizzata sul territorio con l'ospedale policlinico San Martino, individuato come hub regionale. Occorre tenere alta la guardia, adottare la massima prudenza, ma senza allarmismi, afferma Toti. Ad oggi sul nostro territorio non si registrano criticità anche in relazione a porti e aeroporti. Il presidente Toti ha quindi esortato a non farsi contagiare da uno dei virus più pericolosi, quello dell'ignoranza. Sbagliano le persone a considerare i cinesi degli untori, sostiene Toti. La preoccupazione illegittima non può e non deve trasformarsi in razzismo. Per quanto riguarda i porti Liguri, il presidente Toti ha sentito telefonicamente anche il presidente dell'autorità portuale di sistema del Mar Liguri Occidentale, Signorini, che ha confermato l'assenza di criticità. Nel corso del 2019 Imperia ha raggiunto le 300.000 presenze turistiche. La conferma arriva dai dati reali sui pagamenti dell'imposta di soggiorno, che parlano di oltre 282.700 presenze da febbraio a dicembre dell'anno passato. Considerando che mancano all'appello i numeri di gennaio 2019, quando l'imposta non era in vigore, e che i dati di dicembre sono in assestamento, secondo l'assessore Gianmarco Neglio, si può dire con certezza di aver raggiunto il traguardo che si era posto il sindaco Scaiola. Gli arrivi hanno superato nel corso del 2019 le 100.000 unità, divise al 50% tra settore alberghiero ed extraalberghiero, mentre sulle presenze si registrano numeri maggiori per case vacanza, reagri turismi rispetto agli hotelle. Questi dati sono per noi molto utili, sottolinea Oneglio, perché più affidabili rispetto a quelli dell'osservatorio turistico regionale, che soprattutto sull'extralberghiero fatica a fornire una fotografia accurata dei flussi. Oggi abbiamo un quadro preciso della realtà turistica cittadina, che ci permetterà di programmare con più attenzione gli investimenti sulla promozione. Tra le varie attività, nel corso del 2019, l'amministrazione comunale ha introdotto il sistema Yacht diffuso, ha creato un brand turistico cittadino, Imperia Authentic Experience, e ha ottenuto la prima storica bandiera blu. Nuova illuminazione a LED nel tratto di strada tra il campo di atletica e il bivio per Poggia e Imperia. Si è concluso nei giorni scorsi il posizionamento di 13 nuovi pali lungo il marciapiede, che costeggia l'ex sedime ferroviario. L'intervento garantirà maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni. L'assessore ai lavori pubblici, Esther D'Agostino, ha sottolineato che sono inoltre già partiti i lavori per la nuova illuminazione di lungomare Cristoforo Colombo a Borgoprino. 130.000 euro di investimento per l'installazione di 24 nuovi corpi luminosi a LED modello Imperia, che garantiranno un risparmio sui costi dell'energia elettrica di quasi il 50%. Tra i tanti prodotti tipici delle nostre vali sappiamo esprimere anche dei campioni che rimangono naturali come i nostri prodotti. Vabbè, assolutamente. Trovo che comunque qualsiasi risultato sportivo non possa cambiare quello che è il carattere di una persona. In certi aspetti può fortificare magari la struttura, ma penso di rimanere sempre al solito. Ringrazio veramente tutti, al di là del risultato è sempre un piacere tornare a casa a trovare questo calore come ho sentito fin dal primo giorno e poi in occasione di questa festa. Ha maggior ragione che tra il Comune, la Proloco e gli amici hanno organizzato questo evento poi a scopo benefico perché l'intero ricavato andrà devoluto interamente al reparto di oncologia pediatrica dei Gaslini. Questo mi rende molto orgoglioso. I motivi di orgoglio sono numerosi. Prima di tutto i suoi risultati sportivi, la sua grande formazione. Poi, come dicevamo, non sono solamente questi i motivi di orgoglio, sono anche il fatto, come accennavi tu, che è un ragazzo che è rimasto autentico, che è rimasto molto attaccato alla sua terra, alla sua gente, quindi ritorna sempre qui in mezzo a noi al termine delle sue gare, partecipa alla vita sociale. C'è anche queste iniziative di solidarietà che sono importantissime. E poi, diciamocelo, Maurizio con le sue vittorie contribuisce a portare il nome di Chiusanico, diciamo, diffuso per il mondo con grande prestigio, con grande onore, quindi è una cosa importantissima. E non solo di Chiusanico, vorrei aggiungere, appunto stasera lo dirò anche ai rappresentanti della Regione, perché fa onore a tutto il territorio di provenienza, quindi provincia, regione. E non solo, perché con le sue vittorie e le sue affermazioni, essendo primo degli italiani in competizioni di questa portata, fa onore all'intero paese, quindi a tutta Italia. Siamo qui proprio come in rappresentanza della Giunta regionale e consegneremo una targa a Maurizio, a nome anche del Presidente Giovanni Totti, per ringraziarlo per il grande risultato che ha ottenuto, ma non è tanto solo per il risultato a livello di classifica, per l'impegno e per il modello, che sono ragazzi e persone come Maurizio, che credono in una passione, in questo caso la moto, e fanno una vita di grandi sacrifici per portare a casa, qui nel territorio, nella splendida Chiusanico, nel nostro entroterra, questi risultati che riempiono tutti di orgoglio. Oggi c'è il suo paese che gli rende merito, che lo ringrazia e con un grande abbraccio lo stringe per accogliere al suo ritorno da questa splendida Dakar 2020, che è stata anche una gara molto difficile perché gli organizzatori hanno creato un percorso particolarmente difficile, mi stavano proprio raccontando prima. Quindi un bravo Maurizio e bravo a tutti coloro i quali credono nello sport e hanno una grande passione che portano avanti affrontando tantissimi sacrifici. Ormai è diventato un atleta non nazionale, ma internazionale, addirittura a livello mondiale, perché il primo degli italiani in assoluto, se non sbaglio, per il secondo anno consecutivo e soprattutto piazzato nei primi venti a livello mondiale, credo che sia un risultato di tutta importanza. La dice lunga su quelle che sono anche le doti atletiche di Maurizio. ha cominciato qua, da noi e poi probabilmente ha anche delle abitudini di vita importanti, sane e quindi ci fa particolarmente piacere anche come Regione Liguria perché è una sorta di promozione di quello che è comunque il saper vivere e il vivere bene sui nostri territori. Maurizio, la terzo anno di competizione, quindi con risultati sempre importanti, conseguiti a livello nazionale e credo che ritrovarsi qui questa sera nel comune di Chiusanico, quindi il comune di residenza del festeggiato. Ringrazio innanzitutto il sindaco e la sua amministrazione comunale per l'invito. Mi fa piacere partecipare come provincia, è un evento, una premiazione di carattere sportivo quindi sono doppiamente soddisfatto di rappresentare la provincia anche perché questa è una valle, la Valle Impero, che oltre a Maurizio, col quale mi congratulo ha altri ragazzi che ci rappresentano non solo a livello nazionale ma anche internazionale come Maurizio. Noi abbiamo l'arbitro internazionale di calcio Davide Massa che risiede nel comune di Chiusanico nella frazione di Gazzelli. Abbiamo l'assistente internazionale Stefano Alassio che abita a Chiusa Vecchia. Anche a gennaio il casino di Sanremo conferma il trend positivo in termini di incassi. L'affollato periodo delle vacanze natalizie prima, unita all'euforia festivaliera che si respira in città e al teatro gremito di spettatori, hanno portato ad un ottimo bilancio mensile contraddistinto dalla crescita delle presenze e degli introiti. Le slot machine si sono confermate al primo posto nel gradimento della clientela che apprezza le opportunità di intrattenimento di livello internazionale e costantemente aggiornate. In molti vacanzieri non sono rimasti immuni dalla consueta assegnazione di super jackpot e monteprimi da record. Il mese di gennaio ha registrato incassi per 3,9 milioni con un incremento percentuale dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2019. Le slot hanno superato 3,1 milioni. Ottima performance anche per la roulette francese, al centro dell'attenzione di molti appassionati. La Poker Room, che ha consolidato il suo appeal tra i giocatori nelle diverse tipologie di tornei, ha realizzato un ottimo 70% sul plus. Un promettente inizio 2020, anno che riserverà molte gradite sorprese ai tanti affezionati pokeristi con tornei internazionali e ricchi monteprimi. Tutto provoca crisi e per affrontarla occorrono esperti, ma anche persone oculate in grado di percepire che il futuro non è così roseo come molti vogliono farci credere. Il risparmio è affievolito notevolmente anche per il potere d'acquisto del denaro ed è diminuito in maniera sensibile. Molti cittadini guardano preoccupati al giorno dopo, lottando con la criticità del non arrivare alla fine del mese. Gli amministratori pubblici e gli uomini della politica parlano, blaterano, ma di fatti veramente importanti all'orizzonte non se ne vedono molti. La cosa migliore è quella di riboccarsi le maniche, cercando di tenere in piedi, lottando quotidianamente la nostra economia. Ma se questo lo dobbiamo fare noi semplici cittadini, a miglior ragione devono farlo quelli che guidano da politici il paese, partendo proprio dai sindaci. Non ci sono soldi per iniziative che si rimbocchino le maniche ai primi cittadini, gli assessori, i consiglieri comunali, fino ad arrivare a quelli regionali, al Parlamento. Allora, a proposito di questo, vi citiamo il caso che vede protagonista il sindaco di Polizzi Generosa. Già il fatto di Generosa ci fa capire che cosa sta accadendo. È un paese in provincia di Palermo. Il sindaco si chiama Giuseppe Loverde. Il comune non ha soldi per pagare il custode del museo. Nei giorni festivi nessun problema. Il primo cittadino si è messo gratuitamente a disposizione, aprendo così a turisti il museo, ma rivitalizzando l'economia del paese con affari d'oro per bar, ristoranti e alberghi. Se anche gli altri facessero così, una buona fetta di cultura sicuramente sarebbe salvata. La Juventus batte 3-0 la Fiorentina e mantiene la prima posizione della classifica. Questo è il commento del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Chiaramente uno quando tiene fuori Di Bala va a letto bestemmiando perché è un qualcosa di pesante e l'ha fatto vedere anche negli ultimi 20 minuti quando è entrato. Però poi alla fine noi abbiamo tante soluzioni offensive, tutte di grandissimo livello, difficili da mettere insieme per le caratteristiche di questi giocatori. e quindi vediamo di riuscirci in base alla partita che abbiamo di fronte. Questa secondo noi era una partita per Douglas, ci ha dato equilibrio, è venuto spesso a fare il quarto centroampista e questo ci ha dato equilibrio là. Al termine della gara persa con la Juventus, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso se la prende con l'arbitraggio. Sette mesi che sono qui non ho mai criticato l'arbitro, ok? Ora ci vuole perché una settimana non hanno fischiato a Genova, non hanno fischiato all'Inter e ora ci fischiano due rigori, due. Forse il primo ci voleva ma certamente non il secondo. Così non si può andare avanti, ok? Spero che mi sentino a me perché non solo fanno male a Firenze, fanno male al calcio italiano. Vittoria in trasferta per l'Inter che vince 2-0 in casa dell'Udinese. Il commento a fine gara del tecnico nero-azzurro Antonio Conte. Penso che l'attenzione nostra era posta proprio sul fatto di cercare di migliorare alcune caratteristiche e specificità in alcuni ruoli. Sicuramente sui laterali dovevamo fare questo. Moses e Young sono due giocatori che ha giocato con me due anni. Young ci ha giocato contro per tanti anni, quindi sono due giocatori che conoscevo molto bene. Siamo riusciti comunque a fare delle ottime operazioni. Secondo me abbiamo alzato il tasso di esperienza e anche la qualità sugli esterni. Il Milan non va oltre il pareggio 1-1 contro l'Elas Verona. Questo è il commento a fine gara del tecnico rosso-nero Stefano Pioli. Credo che abbiamo trovato una squadra che ci ha aggredito e ce l'aspettavamo. Dovevamo trovare un po' di più di spazio sulle fassi e non ci siamo riusciti. E poi che è la prima situazione pericolosa abbiamo preso gol. Dopo le partite cambiano, però non abbiamo perso lucidità nel primo tempo. Abbiamo continuato a giocare. Abbiamo giustamente pareggiato. Abbiamo avuto un'occasione che andava sfruttato per tornare subito in vantaggio. Dopo invece abbiamo perso lucidità una volta rimasti in superiorità numerica. E' vero che ci abbiamo messo grande generosità, grande spirito, ma mancava ancora una vita. Dovevamo essere più lucidi, più pazienti, muovere di più la palla, occupare di più l'ampiezza. Ma non posso rimproverare ai miei giocatori la voglia di vincere. E' che oggi la voglia di vincere ci ha fatto perdere lucidità e sembrava che mancassero pochi minuti. Invece c'era il tempo e la possibilità di vincere. Credo che con tutti i meriti che possa avere avuto il Verona, che ha fatto sicuramente una buona partita, noi potevamo vincere e avremmo dovuto vincere. Grazie a tutti.